Io adesso do la parola a Magda per le conclusioni, per concludere un po' la nostra riunione, la nostra assemblea e poi pranziamo tutti insieme, così visitiamo anche questo bellissimo centro. Chi non ha avuto l'occasione di vedere c'è un bellissimo parco anche all'esterno, è davvero molto bello. Ecco vi chiedo un ultimo sforzo, se possiamo rientrare così ascoltiamo anche Magda, le sue conclusioni, anche la situazione regionale, nazionale quindi un po' come dire, un aggiornamento anche complessivo. Ilva per piacere. Allora, capisco che insomma è faticoso stare fermi, però è un piacere, dicevo, rivederci, vedere le persone, anche con la mascherina, ma pazienza, comunque è un passo avanti, un'evoluzione e un anno fa credo che tutti pensassimo un po' più spesso ma quando ci rivedremo come... Poi so che tutte le possibilità sono state colte, quindi appena possibile si è fatta in presenza, all'aperto e questo è un grande risultato perché veniamo da un periodo di sofferenza, essere distanziati, non potere più godere dei momenti di socializzazione è stata veramente la sofferenza per tutti. Adesso poi si può fare la graduatoria per chi ne ha maggiormente risentito o meno, però tutti insomma ce li portiamo questi problemi. Poi se non ci sono stati anche, diciamo, le persone, penso che ognuno abbia conosciuto qualcuno che se ne è andato a causa Covid. Poteva essere in prossimità perché è molto anziano, molto malato o anche no, ma insomma è stata, diciamo... Sono morte 13.200 persone in più in Emilia-Romagna per Covid e quindi questo è qualcosa che pensate, mette insieme, è un paese neanche piccolo. Ecco, quindi adesso per esempio che stiamo, stiamo rilanciando per fortuna con i vaccini, cominciamo a poterci muovere, a sentirci un po' più tranquilli, a pensare un po' meno magari al rischio di ammalarci, però dobbiamo stare attenti. Non ci facciamo più caso, ma insomma i 50, 90, 100 morti al giorno ci sono ancora. E quindi, insomma, stiamo attenti veramente. È stato un risultato quello dei vaccini grazie al fatto che tutte le grandi industrie farmaceutiche si sono messe insieme. Quindi è stata la prima volta perché di solito operano in concorrenza. Poi dopo la concorrenza non è mancata, magari nel sottolineare un effetto collaterale o meno, ma stiamo vivendo una situazione dove gli effetti del vaccino, per quanto coprirà, cioè bisogna avere pazienza, la stiamo vivendo. E quindi di giorno in giorno, dopo tot settimane o mesi, si potrà sapere effettivamente il grado di copertura. Per quello c'è la raccomandazione che si sta un po' più tranquilli perché da vaccinati, insomma, se lo prendi è comunque in forma più leggera, ma bisogna continuare a stare attenti. Ecco perché le attività poi dei centri, dei circoli sono ancora limitate. Ufficialmente la data è dal primo, si possa riaprire dal primo luglio. Poi dovremmo entrare in zona bianca da lunedì prossimo. Questo dipende sempre dai numeri, sempre ai contagi e agli effetti. Insomma, c'è qualche motivo di ottimismo in più. Oggi io parto dall'ultima presentazione del bilancio sociale, perché quel bilancio sociale è il risultato e ci dice di come Hauser è riuscita con grande ostinazione quando tutto era chiuso, tutto non si può fare, ma agli anziani no. Quante ore abbiamo passato al telefono con Mirella e che passava con tutti i presidenti dei territori, ma perché ci si faceva coraggio, sapendo che si rischiava, che bisognava avere la fatica di trovare le mascherine, tutti i disinfettanti, queste cose, spendendo anche un tot, però che ha avuto più coraggio, ha avuto più risultati. Infatti Ravenna è un territorio dove il tesseramento ha tenuto. Adesso la media della regione è un meno 10-70%, grazie al fatto che nei primi due mesi si era fatto il grosso del tesseramento. Quindi chi ha cominciato presto a distribuirle, anche tutti i circoli si erano fatte. Quest'anno la situazione è un po' più difficile, soprattutto nell'APS, perché i circoli sono chiusi da ottobre e riapriranno il prossimo mese. Quindi questo è un elemento di sofferenza ovviamente. Però questi mesi abbiamo cercato di utilizzarlo proprio per rilanciare, per organizzare e pensare attività nuove. Abbiamo lavorato molto con questo meccanismo di Zoom. L'anno scorso, in aprile, ne abbiamo dotato a ogni territorio di una licenza e l'abbiamo rinnovata, proprio perché pensiamo che sia uno strumento che, tra l'altro, come si dice, piuttosto di niente, è meglio questo. E molte persone, più facilmente o meno, si sono adattate ad usarlo, hanno imparato ad usarlo. E questo grazie anche alle grandi collaborazioni fra le generazioni, perché poi il vicino, il nipote, qualcuno di famiglia ti ha aiutato, ti ha scaricato l'applicazione. Insomma, abbiamo misurato anche le difficoltà se le connessioni sono scadenti, perché dipende dal territorio, se la copertura c'è o meno. Seguire una videoconferenza con una connessione scadente è una tortura. E questo ci dice che sarà un grande impegno anche nel diffondere le reti in quelle aree interne dove non sono commercialmente interessanti, però deve arrivare la connessione, perché è un elemento fondamentale come l'energia elettrica. Questo lo è stato per le scuole, sarà per la telemedicina, perché noi dovremmo occuparci molto di cercare di contribuire a colmare il divario digitale. Sempre più chi ignora questa tecnologia, chi non sa utilizzarla, rimarrà sempre di più escluso, perché il dialogo con le pubbliche amministrazioni ormai se non hai lo speed non riesci ad accedere. Pensate a tutto che cosa ha significato. Ecco, la ricetta, diciamo che con effetto del Covid, oltre a tante disgrazie, ha portato anche un'accelerazione nel dematerializzare per esempio le ricette, da qualche anno se ne parlava. Adesso poi si è scoperto che basta in qualche modo scrivere, telefonare al medico, fa la ricetta, col tesserino sanitario vai in farmacia e non c'è più neanche quel pezzo di carta, perché la richiesta la scaricano lì direttamente. Abbiamo scoperto che chi ha il fascicolo sanitario elettronico in Emilia Romagna siamo stati la prima ragione, perché è nato col CUP 2000 a Bologna, forse alla fine degli anni 90. e però è ancora poco diffuso. Invece è stato utilissimo, pensate a prenotare il vaccino, poi uno è stato lì da mezzanotte, all'uno un quarto ci sono riuscita, però puoi risparmiare un sacco di giri. Con la telemedicina e i dispositivi potremo essere in grado di contattare un medico, l'infermiere di comunità, figura molto importante che è prevista nelle case della salute, che è prevista anche nel decreto rilancio, perché non c'è solo il medico. Tante volte ci sono dei piccoli problemi che si possono risolvere anche con le figure, sono lauree brevi quelli di infermieri, non pensiamo più all'infermiere dequalificato di molti anni fa, adesso sono figure professionali importanti. Ecco, tutto questo si può semplificare se abbiamo accesso alla tecnologia, se impariamo, quindi qui è un grande lavoro a tappeto per imparare ad usare queste tecnologie, perché ci rende la vita più facile fare un pagamento, anche andare al cinema, prenoti il biglietto e lo fai online, quindi se non impari a usare questo online, è veramente un fattore di esclusione. Quindi noi che siamo promotori di invecchiamento attivo, saremo promotori proprio di avere l'accesso a queste modalità, perché sempre più altrimenti ti senti escluso, ti senti vecchio. Io non sono ancora riuscita a convincere mia sorella 83enne, che è un tipo molto dinamico, che ha sempre viaggiato, ha fatto il plurismo a Lugo con Hauser, però non sono ancora riuscita. Ha il lettore per leggere i libri, l'ha trovato facile, perché così pesa poco, però sta a accedere a internet per cercare, non so, il significato di una parola, ma proprio l'interazione questa non ce l'ho ancora fatta. Però con Hauser ce la potrebbe... ha seguito un'università, una serie di corsi di università per adulti, e questi saranno i corsi basi che nei circoli bisognerà utilizzare. E guardate, è un'occasione stupenda anche per coinvolgere i ragazzi e le ragazze, perché loro certamente lo sanno fare. E allora c'è uno scambio tra le generazioni, perché dobbiamo trovare anche delle modalità leggere, piacevoli, dove il giovane conosce la tecnologia, ma la persona anziana ha l'esperienza di vita, magari insegna le ricette o chissà quante altre cose ci possono essere in questo scambio. Ecco, adesso si riapre, c'è la bella stagione, e basta tanto, tutti abbiamo ormai il telefonino con i tastini, i vecchi in occhia, credo che ormai siano pezzi da museo, e quindi con lo smartphone si può fare. Questo è un suggerimento di attività. Bene, il bilancio sociale ci dice di quante cose siamo stati capaci di portare avanti anche durante il lockdown, durante la pandemia, è stato reso possibile una volontà che adesso ci hanno molto pensato, grazie, poi dopo quando devono prendere i provvedimenti a favore delle imprese si ricordano, ma chi non produce, come è stato citato in più interventi, non viene considerato nello stesso modo. Infatti, a forza di rincorrere, qualche cosa è stato recuperato, come credito d'imposta o altri strumenti. progetti della regione che sono stati un sostegno per l'associazione di volontariato e promozione sociale, per i costi dei DPI, sono stati 5.000 euro ogni associazione l'anno scorso, 10.000 quest'anno. Piccoli aiuti che però hanno contribuito. E guardate che il fatto di essere delle Hauser con tante, due codici fiscali per la provincia di Ravenna, ma tante unità, tanti circoli e unità comunali, è stato un punto di forza. Perché qualcuno le citava, altre associazioni, che invece hanno il circolo col proprio codice fiscale, autonomo, eccetera, però se non avevano dei fondi accantonati, queste molte associazioni poi chiudono. e quindi bisogna valutare sempre i pro e i contro, perché fare massa critica comunque aiuta. Aiuta anche per rispondere a tutte quelle richieste che per essere un'associazione di terzo settore, per essere nel registro unico del terzo settore, che i dati dovrebbero trasmigrare adesso nell'estate, e oggi pomeriggio alle due e mezza c'è un altro collegamento con la regione, proprio sugli statuti. Noi siamo rete Hauser, quindi abbiamo fatto questa scelta, nei nostri statuti c'è scritto, non c'è qualcosa ancora da rivedere, perché non è ancora stato definito il sistema delle reti nazionali, quindi la normativa non è ancora completa, dove verranno definiti degli statuti standard e quindi tutte le affiliate, le associazioni, le articolazioni territoriali della rete avranno quelle determinate caratteristiche e quello statuto. Quindi adesso li abbiamo già modificati nel 2019 per recepire la riforma, ma ci vorranno ancora altri passaggi. Allora, per fare che cosa fa Hauser? Per supportare i territori dell'Emilia-Romagna in tutti questi passaggi. Abbiamo lavorato soprattutto con la formazione. Webinar ormai si chiamano, perché si fanno sempre con le caselline, con la videoconferenza. Un ciclo di formazione piuttosto consistente ha riguardato proprio la struttura dei bilanci. Cinzia ricordava che è stato intanto fatta la stesura per quanto riguarda il patrimoniale, poi per il conto economico lo si fa nel 2021, però con il nostro consulente commercialista e il supporto del servizio ispettivo, che hanno competenza, hanno aiutato, oltre a fare le elezioni per tutti, proprio supportato territorio per territorio, perché bisogna adottare il piano dei conti nazionali Hauser, che era quello già da dieci anni, insomma non è stata una novità, ma non tutti avevano già recepito, perché i bilanci possono essere, tanto devono essere trasparenti, pubblicati, e quindi il bilancio dal 2021 dovrà essere appunto pubblicato, quindi deve rispondere poi alle strutture che il decreto del marzo del 2020 ha previsto. Questo è stato un grande lavoro di burocrazia, sì però parliamo anche di regole di trasparenza, perché parliamo anche di un terzo settore che dove prima era cresciuto su una serie di stratificazioni di leggi, prima nasce il volontariato, poi dopo nel 2000 la promozione sociale, e quindi è stato fatto un testo unico che comprendesse tutte le normative. Bisogna tenere sempre presente l'anima, perché facciamo tutte queste inconvenienze che sono impegnative, è come costruire il bilancio sociale, registrare giorno per giorno, settimana per settimana, i giri che hai fatto, i chilometri che hai fatto, così alla fine dell'anno basta fare il totale. E' chiaro che se devi prendere, ti trovi nella primavera dell'anno dopo, a ricostruire i dati, ecco, diventa molto difficile. Però credete la cosa fondamentale, perché è la carta di identità con cui noi ci presentiamo. Chi è Euser? Sono i quasi 3.000 soci nel 2019, sono diventati meno di 250.000 nel 2020, quindi c'è stata una riduzione, però cosa abbiamo fatto? Anche nel periodo difficile abbiamo fatto X e la somma dei numeri ti danno la dimensione di un'attività, di una vicinanza delle nostre associazioni alle persone che hanno bisogno. Prima qualcuno citava i documenti congressuali che sono lunghi, eccetera. Guardate, concentratevi soprattutto oltre all'analisi di divisione e di contestualizzazione anche con quello che è successo nel Covid, c'è una parte molto rilevante che credo sia più interessante perché riguarda più attività, che è il progetto sociale. Quelle sono tutte le attività che Hauser può fare. Diciamo, dappertutto si faranno, no, ci sono delle vocazioni, delle storie, però quelle sono tutte le possibili attività che si possono fare. E quello, chi ha letto anche esperti di sociale, esterni anche a Hauser, ha riconosciuto una grande qualità di quel documento perché è stato scritto, stilato con persone, competenti veramente che hanno approfondito. Quindi, se dovete leggere quale leggere, concentratevi sul progetto sociale e ritroverete delle cose, potete ottenere anche delle idee di cose nuove da fare. I nostri obiettivi saranno poi quelli di curare, prenderci cura della prossimità, dell'invecchiamento attivo, dell'apprendimento permanente perché una persona invecchia quando non è più curiosa. ma finché mantieni il cervello attivo e impari, ti mantieni giovane, tra virgolette. Ma no, non è poi bisogno per forza essere giovani. Si è persone attive a prescindere dall'età e questa è una grande conquista dove lo stile di vita contribuisce a mantenerlo. Ecco perché nei circoli bisognerà fare spazio, oltre a giocare, danzare, non vediamo l'ora, di cominciare il ballo, però oltre a queste attività, prevedere sempre delle attività culturali. E allora che cosa può fare una rete? Adesso i sabati mattina, sabato mattina ce ne sarà una. Per esempio, ci sono una finestra sul mondo. Ogni volta con il coinvolgimento di giovani docenti universitari, questi che sono associati nello spiegone, che parlano di diverse parti del mondo. Sabato mattina alle 10.30 si parlerà di Stati Uniti d'America. E è un'ora, poco più di un'ora, in cui si può seguire. Questo è tutto materiale che è disponibile e che si può anche rivedere, fare nelle varie, fare un programma e proiettarli, chiamare qualcuno anche che possa collegare con questo. Per esempio, si può coinvolgere anche il docente che l'ha fatto, per cui, oltre a utilizzare quella lezione già fatta, poi si può interloquire con il docente. Abbiamo provato anno scorso, per esempio, potremmo fare una programmazione in rete nelle università popolari che abbiamo nella regione e questi mezzi ci aiutano anche ad arricchire l'offerta dei programmi. Perché magari noi riusciamo a fare qualche cosa? Bene, però se il circolo di Casola Valsegno fa un'iniziativa, perché non lo si può seguire anche a Savarna, Sant'Alberto, non mi ricordo i nomi? Cioè, lo possiamo fare all'interno dello stesso territorio, lo possiamo fare all'interno della stessa regione? Cioè, sono tutte potenzialità che si fanno. Poi, si va, adesso si può andare fisicamente presso il circolo a seguirlo, ma se devi mobilitare dei docenti che vengano lì è una questione anche più onerosa. Sfruttare la rete vorrebbe dire che lo possiamo fare senza impegnare troppe risorse. Scambio tra le generazioni, abbiamo più di un intervento la citate, questo lo possiamo favorire, ovviamente non avendo la pretesa che facciano le cose che facciamo noi, anche noi, verso quando eravamo ragazzini, ricordiamoci di quando eravamo ragazzini, che verso le persone anziane magari non eravamo così tanto ben disposti, no? Però, possiamo provarci e lasciare spazi che utilizzino ovviamente con delle regole di convivenza, perché non sono gli anziani che puliscono la casa come ti puliscono la cameretta, ma si possono trovare delle modalità di convivenza, perché questa è una palestra poi di vita, cioè in fondo in un'associazione noi riproduciamo con i nostri valori che è la solidarietà, la convivenza, il sostegno verso le persone più fragili, ma declinare la solidarietà la si ritrova in tantissimi modi, ecco perché torno al rapporto con SPI e CGL in particolare con lo SPI perché abbiamo in comune diciamo ci occupiamo delle stesse persone in fondo, persone anziane. I rapporti con SPI e CGL da cui nasce Hauser, quindi l'ispirazione è stata quella nell'89, abbiamo valori comuni e questa è una cosa fondamentale e guardate che non sono quelli prevalenti in una società in cui viviamo, i valori della solidarietà, del rispetto, è bene che chi ha certi valori e impostazioni insomma cerchi di favorire lo scambio perché ognuno con le proprie competenze poi mette in pratica quelle iniziative come è possibile nelle proprie competenze senza invadere. Allora mi risulta che per esempio lo SPI molte sedi hanno già organizzato una serie di corsi di addestramento affiancamento per l'uso dello SPID questo è qualche cosa che si può fare in comune. Abbiamo l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze i progetti con le scuole per la memoria ultimamente il ministro Bianchi che è vulcanico che è stato assessore a lungo in regione ha proposto trovato fondi 500 milioni destinati a progetti che presentano le scuole sia nel periodo per attività nel periodo estivo ma anche per tutto lungo l'arco del prossimo anno scolastico e queste con l'intervento anche con il coinvolgimento anche del terzo settore abbiamo dato l'indicazione di manifestare un interesse perché noi facciamo delle attività già con le scuole possiamo potenziarle ma non solamente fare attività qualche volta accessoria ma anche portare per esempio la memoria parlare di storie di storie che abbiamo vissuto sono presente per esempio la collaborazione con Ampi Memorie Partigiane questo parlare nelle scuole è un'iniziativa importante sottovalutiamola queste si possono fare ovviamente il volontariato non è sostitutivo dell'attività lavorativa questo da sempre e mai lo è diciamo che noi sostituiamo piuttosto delle attività che altrimenti altri non fanno sostituiamo la socialità qualche volta sostituiamo come nel caso degli accompagnamenti questo è proprio emblematico sostituiamo un familiare che non c'è tenete conto che parlare di famiglia bisogna parlare di famiglie che sempre di più sono fatte di una persona sola soprattutto nelle persone anziane allora questo interroga proprio su tutte le cose che possiamo fare a integrazione non a sostituzione ma in proprio integrazione dei servizi che ci dovranno essere servizi e questo sarà un tema che svilupperemo servizi per la domiciliarità cioè quando abbiamo visto l'orrore dell'RSA e tenete conto che non si potrà sopravvivere al proprio domicilio fino alla fine fortunato chi può permetterselo ma ci sono anche stati di non autosufficienza grave a cui la risposta può essere data solo dalle strutture devono essere delle strutture ovviamente strutturate dal punto di vista medico che vanno riviste ripensate ma le RSA non sono superabili però possiamo allungare il più lungo possibile la vita nel proprio domicilio senza barriere architettoniche con una rete di servizi domiciliari e qui l'integrazione sociale e sanitaria e questo è un grande tema su cui incrociamo Confederazione e SPI perché i servizi territoriali hanno mostrato che laddove sono stati tenuti e potenziati si è retto un po' meglio all'ondata il modello Lombardo della sanità che ha privilegiato ovviamente tutta l'ospedalizzazione perché lì c'era il grosso delle tangenti possibile perché nella medicina di base non ci sono tanti margini e lì ha mostrato tutte le debolezze e l'hanno pagato proprio in termini di vite umane perché avevano smantellato la medicina di territorio noi abbiamo organizzato come giornale insieme anche a Bovini il demografo in cui abbiamo fatto il libro 2032 che qualche anno fa l'abbiamo presentato proprio anche in questa sala abbiamo fatto una serie di videoconferenze tematiche e il 3 di giugno l'abbiamo fatto con l'assessore Donini collegamento pessimo perché lui aveva la videocamera che non funzionava comunque insomma è andato e le unità speciali di comunità le USCA che sono state istituite in occasione del contagio quelle c'è l'impegno a mantenerle i medici di medicina generali dentro le case della salute con gli infermiere di comunità questo è qualche cosa che è tema che abbiamo in comune con con lo SPI dopodiché nelle case delle salute forse facciamo il filtro facciamo con le attività di volontariato le attività appunto accessorie perché non sostituiamo assolutamente quello che è il compito del servizio sanitario regionale poi ci sono altre attività che la riforma del terzo settore attribuisce alle associazioni di volontariato promozione sociale ed è una nuova modalità nuova riscritta diciamo modalità di rapporto con gli enti pubblici nella coprogrammazione e coprogettazione e questa la fanno gli enti del terzo settore la contrattazione la fa il sindacato però se ci scambiamo se diciamo condividiamo valori e condividiamo anche obiettivi a quel punto ognuno nella propria sfera di azione porterà avanti gli stessi obiettivi quindi obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone particolarmente quelle anziane ma non esclusivamente e questo è un obiettivo che perseguiamo con i nostri ruoli i nostri compiti su questo abbiamo ripreso è stato eletto purtroppo il segretario generale dello SPI regionale se l'è portato via il covid e è stato eletto il nuovo segretario regionale con la segreteria abbiamo rinnovato anche la presidenza regionale e abbiamo fatto un primo incontro rifaremo un testo simile ma adesso vediamo i contenuti da sviluppare simile al libro 2032 idee per la longevità dimmi se sto tirando troppo le lunghe chiudo ancora qualche pochi minuti e lo faremo proprio perché noi c'erano stati degli spunti in quel libro di cose che possono essere cambiate oppure sono ancora da potenziare alla luce dell'esperienza del covid proprio per pensare come affrontare i problemi che la longevità ci consegna problema che diciamo è un fatto che vogliamo mettere a valore contrastando quindi gli stereotipi che si hanno sui vecchi ma anche gli stereotipi sui giovani perché anche nell'imparare a usare la tecnologia i giovani si li sanno usare ma non è detto che li sappiano usare nel modo più opportuno appropriato e creativo e quindi non lo diamo mai per scontato noi abbiamo la maturazione di un pensiero critico la nostra formazione insomma che ci portiamo dietro che non è così diffuso nella scuola di oggi e quindi questo sta proprio in quello scambio che può arricchire tutte le generazioni lo scambio è sempre positivo insomma allora da ultimo la sicurezza in Hauser guardate anche questo non viveteli come adempimenti doveri pallosi burocratici quando noi facciamo un'attività dobbiamo fare l'attività in sicurezza come fossimo lavoratori dipendenti lì è proprio chiarissimo anche perché se accompagno una persona che sia un tassista o sono un volontario Hauser devo avere le stesse attenzioni se faccio il barista o il cuoco devo avere le stesse attenzioni stesso rispetto delle norme igienico sanitarie di sicurezza non lasciare le vie di uscita ingombre con gli cartoni messi lì davanti insomma sono tutte attenzioni che fanno parte della cultura della sicurezza ci hanno lasciato bene quindi grazie a tutti e buon buon congresso non vi vedo come una fase grazie grazie buon lavoro e buon estate allora salutiamo i nostri associati i nostri compagni che sono ancora rimasti collegati e gli auguriamo buon pranzo buon appetito